cari amici allora prima di tutto faccio questo video brevissimo vi dico che d'ora in poi cambierà il format di informa tv io non ho tempo quindi non ho più tempo di scrivere di montare fare brigare quindi farò dei video magari un po meno perfetti però ne farò di più ok così evito di dover montare il video quindi ci saranno delle pause magari mi sbaglierò farò degli errori chi se ne frega allora però adesso devo darmi una notizia importante allora ieri sul canale informa tv sulla mia diretta è apparso un account fasullo adesso so che è fasullo ma in quel momento non lo sapevo che riportava sia l'immagine che il nome di simone di stefano che è uno dei leader di casa pound che tra l'altro io ho conosciuto conosco so che è una brava persona come poi ho detto cosa è successo questo che era evidentemente un fake un profilo fake lo era ed era un troll insomma mi ha insultato ho fatto delle velate miname neanche tanto vilate insomma e oltretutto poi è stato appoggiato anche da altri account quindi questo si tratta chiaramente di un di un attacco ecco di un attacco fatto apposta sia per in qualche modo no farmici cascare sicuramente e sia perché in qualche modo mettermi contro qualcuno che in realtà non aveva nulla contro di me allora questo come io stavo in diretta in quel momento quindi non potevo seguire i commenti c'è un moderatore mi ha segnalato questi commenti c'è una cosa da dire i commenti purtroppo io non lo sapevo ma l'ho verificato ieri che i commenti che si fanno durante una diretta appaiono a fianco al video e io sono andato a cliccare sul sul nome per verificare l'account però non c'è il collegamento se si va a cliccare sul nome utente che ha lasciato un commento durante una diretta non si arriva sulla pagina di quell'account cosa che invece succede normalmente nei commenti sotto un video se io vado sul nome di un utente cliccomi porta la sua pagina suo canale ecco mentre invece in questi commenti online non è possibile di conseguenza io l'ho preso per un commento vero ecco quindi ho replicato normalmente ho replicato ovviamente non ho insultato nessuno anzi anche nella quella parte di video ho detto che il signor di stefano per quello che l'ho conosciuto è una bravissima persona quindi però ovviamente insomma avendo interpretato quello come un attacco vero reale e ci sono rimasto male quindi insomma semplicemente detto la verità cioè che io ho sempre difeso casa pound come ho difeso tanti non perché amo casa mound più di altri partiti io sono equidistanti da tutti però ho difeso casa pound quando è stata ingiustamente attaccata e quando per attaccare casa pound sono stati violati dei diritti costituzionali ok quindi comunque cosa importante è che con il signor di stefano lo sento stamattina è tutto chiarito è quindi non c'è nessun problema quindi io non ho nulla contro casa pound e casa pound non ha nulla contro di me questo ecco perché è la cosa più importante detto questo poi ieri sera sempre sto account fasullo aveva postato un commento sotto il video in questo caso qui si poteva risalire all'account però io ieri sera ero stanco morto non stavo veramente più in piedi dico me ne vado a dormire domani mattina poi vedo stamattina sto signore ha cancellato tutti i commenti quindi è sparito il commento è sparito anche l'account ora il signor di stefano ma ovviamente non è rimasto felice di questa cosa perché ovviamente se c'è qualcuno che se ne va in giro usando il suo nome e la sua faccia e si comporta male e ovviamente va a discreditare poi casa pound e la sua persona di conseguenza mi ha detto io gli ho inviato perché ovviamente ho gli screenshot di quei commenti di tutti i commenti che sono stati cancellati quindi ho inviato al signor di stefano tutto il materiale e lui mi ha detto che casa pound provvederà con i suoi avvocati a sporgere denuncia bene questa è una bella notizia anche perché ovviamente si può risalire a qualsiasi commento è semplicissimo quindi questa persona che ha fatto questo sarà denunciata è per un reato che è un reato penale perché in possessarsi della identità altrui e per di più fare quello che ha fatto questa persona è un reato penale è quindi tanti auguri e anche a signor matteo renzi no che un altro di questi che è andato a scrivere sotto il mio commento si beccherà una bella segnalazione anche lui alla polizia postale così facciamo passare la voglia a queste persone comunque detto questo allora siamo in una situazione quindi chiuso il capitolo casa pound ha un'altra cosa importante ovviamente dalla diretta nella quale io replicavo a casa pound ho cancellato quella parte del video perché ovviamente mi riferivo a un fatto che non sussisteva anche se non lo sapevo quindi online attualmente non c'è più niente che riguarda questa faccenda ok perché non ha laggiore di esistere è stato un fraintendimento nel quale io ci sono cascato sì ci sono cascato è vero ma non potevo in quel momento non c'era modo per rendersi conto che non era così allora cosa fanno stanno facendo di tutto stanno mandando dei troll in giro troll troll che poi sono dei figli di troll anche tanto per essere chiari allora qui si tratta di persone che vengono a fare degli attacchi sono persone pagate apposta per farlo ok tanto per essere chiari allora intanto dico subito una cosa è quindi chiunque d'ora in poi commenta sotto un mio video con un commento che sia anche se solo a me mi è antipatico ok o che non mi va bene che c'è qualcosa di ambiguo lo banno in automatico ok soprattutto se non è un account che ha foto con nome e cognome ok quindi tutti gli account pinko pallo inventati eccetera eccetera se commentano cose che a me non vanno bene li banno automaticamente così cominciamo a fare un po' di pulizia ci leviamo dalle palle e qui si rompiscatole detto questo c'è un'altra cosa importante da dire è allora siamo in una situazione molto grave c'è qualcosa di molto grosso sta succedendo qualcosa di veramente molto molto pericoloso e molto grosso quindi io vi informo di questo poi ne parlerò anche meglio nei prossimi video allora sta succedendo questo tutti i video adesso le piattaforme di social network stanno rendendo virali volutamente apposta dei video che spargono delle fake news ok quindi stanno pompando video dove si dice che il coronavirus non esiste piuttosto che è tutta colpa del 5g piuttosto che tante altre cose che i morti non sono morti e questo e quello le stanno pompando lo stanno facendo apposta in modo tale che voi li vedete e che in questo modo non perdiate dice ma questo dice questo quello che dice quell'altro quello che parla della cospirazione di QAnon quello che fa quello e vi confondete lo fanno apposta io lo so perché mi ha chiamato delle persone che seguono il mio canale mi hanno anche un po' stupito perché le persone non so più cosa pensare mi hanno detto allora non guardate questi video non li guardate ok non guardateli è il modo migliore per salvarvi ecco perché se no cadete anche voi nella rete spegnete definitivamente la televisione e non accendetela più per nessun motivo mai più buttate la televisione non la accendete in televisione stanno facendo passare apposta il pensiero unico ci raccontano quello che vogliono loro e in questo modo convincono le persone che il governo sta facendo bene ok? che sta facendo e che non ha fatto errori invece vi invito per favore a interessarvi di quello che stanno combinando in Parlamento in questi giorni io poi dopo farò un video quindi cercate di restare concentrati su cosa stanno facendo i politici non dico il governo dico i politici tutti i politici e di stare ancorati alla realtà non vi fate fregare va bene? ecco io comunque a conclusione di tutto questo non ho bisogno di scusarmi con nessuno comunque in ogni modo mi scuso mi scuso più che altro per essere cascato in questo tranello ecco di questo mi scuso poi per il resto non ho niente da scusarmi con nessuno perché non ho insultato nessuno quindi non... ecco e basta dai ci riaggiorniamo presto ok? un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e ci vediamo al prossimo servizio